Per il venticinquesimo turno di eccellenza, allo stadio Flacco di Pescara si affrontano il Delfino Curi e il Capistrello. Le due squadre scendono in campo con le bandiere dell'Ucraina e quella della Pace, in segno di solidarietà verso il popolo ucraino. Meglio i rovetani all'inizio che si rendono pericolosi con Visconti che al decimo rientra e calcia verso la porta bravo Calore estremo locale ad alzare in angolo. Al diciannovesimo percussione di Salvati che taglia il campo e serve di Girolamo che fallisce una ghiotta occasione. Al minuto 23 ancora gli ospiti vicini al vantaggio con Fantauzzi che calcia una punizione che scavalca la barriera ma Calore non si fa sorprendere. Al venticinquesimo di Girolamo per gli ospiti dall'out di destra lavora un buon pallone, il cross al centro e il lupo è bravissimo di tacco a liberare. Con le immagini di Simone Luciani andiamo nella ripresa. Pronti via e il Delfino si porta in vantaggio. Cross di massa dalla sinistra per Pastorini che viene contratto di testa sulla ribattuta il più lesto è di Stefano che al volo trafigge di Girolamo. La risposta ospita è racchiusa in due occasioni, la prima al dodicesimo con De Meis che calcia centrale e la seconda al quattordicesimo con Visconti che su punizione non sorprende Calore. La partita scivola verso il novantesimo senza particolari sussulti fatta eccezione per una protesta locale al quarantunesimo per un presunto fallo in area. Vittoria che dà punti e morale al Delfino per quanto riguarda gli ospiti da salvare la prestazione soprattutto nel primo tempo. Il finale dal campo flacco di Pescara è Delfino Curi 1 capistrello 0. Assolutamente sì, la squadra ha dimostrato per l'ennesima volta che gioca a calcio, che merita un risultato diverso, però purtroppo non arriva, non arriva per tanti motivi. Il primo è sicuramente che giocare senza punte di ruolo, ma questo non significa sminuire chi sta giocando, anzi si stanno sacrificando in ruoli che non sono i loro, tipo Franchi, Daniele Di Girolamo, lo stesso ultimo arrivato Visconti. Giochiamo senza una punta di ruolo, quindi senza punta di ruolo giocare a calcio è come giocare senza portiere. Diventa difficile, diventa difficile far gol e di conseguenza le prestazioni sono sempre, però poi non arrivano i gol. Ma no, l'ho detto, poi quando ci sta da fare un tipo di partita diversa, quando ci sta da giocare a calcio, giocando con punte non di ruolo, di movimento, giochi a calcio, si gioca, crei comunque tanto possesso palla, però quando la partita poi si sporca, loro sono maestri in questo, il mister è maestro in questo qua, serve una punta di ruolo dove potersi appoggiare, loro pure hanno fatto prettamente questo oggi, quindi diventa poi difficile, quando poi tirò i quattro o cinque persone dietro non riesci più a creare nulla. Sì, ma i tre punti in questo momento sono importanti tutte le partite, o meglio i punti perché poi anche un punto è importante in questo momento, non credo che sarà più importante di domenica prossima o meno importante di prima, però obiettivamente era una partita in casa, in casa tra virgolette, che andava giocata in questa maniera, anche perché la squadra avversaria è una squadra di categoria, è stata una partita di eccellenza a tutti gli effetti, dove siamo stati più fortunati dell'andata, dove il Capistrello aveva raccolto forse un po' di più di quello che meritava e noi oggi abbiamo raccolto un po' di più di quello che meritavamo, meglio essersi spartiti tre punti a testa che un pareggio. Sì, volevamo fare una partita diversa, però ripeto, non è facile perché noi siamo arrivati alla ventiquattresima trasferta stagionale, ne abbiamo altre dieci, per cui adattarsi sempre in un campo non è semplice. Loro hanno fatto una partita intelligente, qualitativa e secondo me è stata la nostra bravura di non saper soffrire nei momenti di difficoltà, peraltro aiutati da un grande portiere che ha fatto una parata eccezionale sullo 0-0 e probabilmente lì la partita è un po' cambiata. Sì, abbiamo cambiato qualcosa, ma non è stato quello che ci ha fatto vincere. Quello che ci ha fatto vincere è stato che i ragazzi stanno lavorando da settimane sotto stress e meritavano questa vittoria perché altre volte nel giorno d'andata magari abbiamo raccolto meno di quello che ci spettava, però guardiamo già avanti perché tra tre giorni si rigioca, devo dire un tour de force clamoroso, gente che alla fine della partita era veramente stanca.